Sì, ma qual è il momento giusto per dirgli che vuoi qualcosa di serio? Magari stai frequentando un amico di letto, fate solo quello, sono passati dei mesi e tu invece ti sei stufata e vorresti qualcosa di stabile. In questo video voglio leggerti una situazione che mi hanno portato dal club riservato dove si parla di amicizia di letto e magari di come portarla a qualcosa di serio e di stabile. Se non sai chi sono io, sono Federico Picchianti, esperto number one in Italia di relazioni sentimentali, oltre mezzogiorno di follower stati a tutti i vari social media. Faccio questo da sei anni, sei anni e passa. Laureato in scienze e relazioni della formazione con 110, ho fondato la start-up club riservato, una start-up dedita esclusiva per la crescita personale femminile. Allora andiamo al dunque, vediamo quindi che cos'è che devi fare quando la relazione è di solo letto e tu vuoi portarla avanti, qual è il momento giusto? Bene, parliamo invece di questa ragazza che mi dice, ciao Federico, come devo reagire? Un uomo con cui ho un rapporto indefinito, nato da una storia di circa X mesi di sesso, adesso non si sa che cosa si ha. Ti racconto la storia poco sotto, ci vediamo spesso e parliamo molto. mi racconta delle sue cose, dei progetti, eccetera, messaggiamo, ci chiamiamo e non lo facciamo. Aspetta che si è bloccato. Che succede? Bene, c'è un'attrazione comunque fra di noi molto alta, confermata anche da lui. Oggi è tornato, dopo un mese di vacanze mi ha portato delle cose da mangiare che gli avevo chiesto e gli ha presi la mia pasticceria preferita. Lo ringrazio senza troppi fronzoli. E non so se domani mandargli un messaggio o una foto mentre mi mangio uno dicendo qualcosa come buonissimi. No. Lui fece una cosa simile con me quando gli feci un altro dolce. Mi ringrazio un paio di volte di persona, il giorno dopo mi scrisse che era buono. A me questo non mi piace, ma non voglio sbilanciarmi troppo perché io non prendo iniziative. Accoglie tutte le mie iniziative. Allora, se la tua relazione è una relazione che è iniziata solo con quello, quindi facendo solo quello e voi facevate solo quello, vi vedevate per quello, eccetera, e adesso hai paura che non si sa che cosa sia, te lo dico io che cos'è. È una relazione di solo sesso. Non è che se lui ti chiama, parla e ti racconta i suoi progetti, allora non vuole fare solo sesso, ma potrebbe anche vederti con un'amica con la quale portare avanti una dinamica sentimentale di frequentazione random, quella che sia, senza doversi preoccupare di darti l'attenzione da fidanzati. Ok? Quindi in linea molto generale, tutti quelli che sono i principi che io spiego nei videocorsi valgono benissimo per continuare a interagire con questo ragazzo, nel senso ipotizzando che tu voglia creare una relazione stabile con lui, ipotizzando che la tua idea sia creare una relazione stabile con questo ragazzo, otto mesi è abbastanza per poter pretendere e dirgli ti vedo per qualcosa di più serio, magari vale la pena fare qualcosa di serio come la vedi. Cioè è idoneo dire una cosa del genere dopo otto mesi, ok? Quindi non è sbagliato. Quello che penso invece che sia sbagliato è sicuramente rimanere all'interno di una relazione di solo sesso, quindi solo per quello, e pensare che questa possa evolversi così da un bled al nulla, cosa che non accadrà. Tutto quello che puoi fare con lui, il comunicare, il parlare, mandarvi messaggi, eccetera, puoi continuare a farlo. L'importante è che sai che cosa fare. Cioè non serve sapere che cosa fare con un uomo se il rapporto è solo di sesso, perché tanto l'unica cosa che puoi farci è sì flertare, parlare di altre cose, eccetera, ma idealmente l'unica cosa che puoi farci è organizzarti per vederti con lui, stare con lui, fare sesso, eccetera. È l'unica cosa che puoi fare con lui. Ok, detto questo, e ammesso il fatto che tu faccia sesso con lui e basta, e che ti vada bene così, perché puoi fare altro. Non vuoi fare altre cose, cioè non vuoi preoccuparti di come interagire con lui. Perché se con un uomo fai solo quello, l'unica cosa che ti serve è usare il telefono per organizzarvi, vedervi, fare texting o vedervi solo per quello. Stop. Se ti racconta dei suoi progetti o altro, puoi assecondare il fatto che ti racconta queste cose, ridurre la frequenza di messaggi che gli mandi, e lasciarlo sempre come seconda, terza opzione di chat. Se invece ricerchi relazioni stabili e stai cercando magari di frequentare altri uomini, sicuramente frequentare altri uomini è una soluzione migliore, certo. E lui lo lascia in secondo piano. Tu taglia dici che a lui ti piace tanto, ok? Quindi, in realtà, dovresti essere lo sbilanciarti, secondo me. Cioè, vedervi, parlarne, farti capire che pensi che valga la pena fare qualcosa di stabile con lui, che lo vedi per qualcosa di stabile, e vedere come rispondere quando gli dici una cosa del genere. È l'unica cosa che puoi fare. Perché otto mesi è tanto, ok? Quindi non è poco.